Ho finalmente la mia bruschetta Sai che questo tipo di trattamento del pesce nasce per non pagare la tassa sul sale Perché così potevi far passare i barili di pesce sotto sale senza pagare il sale Il pomodoro è una buonissima bacca E' una bacca E questo dovrebbe essere un piatto mediterraneo Ma questa non è la dieta mediterranea La dieta mediterranea non esiste, non la seguiamo Tra l'altro le olive nere e le olive verdi vengono tutte dalle stesse pianta Non c'è l'olivo delle olive nere e l'olivo delle olive nere Quindi è uguale Non è la stessa cosa Non lo voglio più